Cento anni dell'azienda Della Valle Autoservizi, impresa storica artigiana vicentina che per l'occasione presenta il libro Vicenza in vettura, storie di cocchieri, chauffeurs, autisti e della ditta Pavan Della Valle. Al suo interno tanta storia del nostro territorio legata naturalmente al lavoro dell'azienda. Un lavoro che come ci racconta Willy Della Valle è sicuramente cambiato nel corso degli anni. Noi eravamo i maggiordomi autista ma maggiordomi, chi portavamo via dovevamo, è spiegato anche nel libro, dovevamo essere dei maggiordomi, degli aiuti, delle conoscenze, il concierge dell'albergo 5 Stelle Russo insomma dove dover sapere tutte le strade, le informazioni, dove possiamo prendere le sigarette, dove possiamo prendere i giornali, dove possiamo andare oggi, che tempo fa domani. Ecco noi eravamo il tutto, chi era un professionista doveva sapere tutto e sapere soprattutto comportarsi. Oggi purtroppo il nostro lavoro è Vicenza, aeroporto, aeroporto, Vicenza, fine. Quattro chiacchiere proprio di quelle veloci, il tempo si brucia in un attimo e mentre una volta si andava a Milano, Roma, a Vienna, Parigi, non c'erano l'Elocosto, non c'erano i treni veloci, pochi aerei e lì ti raccontavi la vita che io chiaramente non posso raccontare.